Un protocollo di intesa per la collaborazione reciproca nell'ambito della formazione dei giovani ingegneri per la diffusione delle best practice nei cantieri della ricostruzione post-sisma è stato firmato tra l'Università dell'Aquila e l'ente scuola edile ESE e il Comitato Paritetico Territoriale CPT per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia dell'Aquila. Lo scopo dell'iniziativa fortemente voluta dal Consiglio d'Amministrazione dell'ente è quello di creare un contatto tra il mondo delle costruzioni edili e quello accademico attraverso momenti innovativi e qualitativi di formazione. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere che si annuncia molto importante per una migliore organizzazione e sicurezza nei cantieri e ha spiegato il presidente dell'ESE CPT dell'Aquila Giovanni Cirillo. Si punta sulla formazione dei giovani ingegneri una modalità, quella di coinvolgere le future generazioni che dovrebbe guidare ogni dinamica nella ricostruzione. Le lezioni saranno rivolte agli studenti di corsi di laurea in Ingegneria edile Architettura e Ingegneria Civile ed Ambientale all'interno dell'insegnamento di organizzazione del cantiere. L'obiettivo dell'attività didattica, della durata obbligatoria di 16 ore è di consentire ai giovani professionisti di accedere in sicurezza nel cantiere più grande d'Europa nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2009 e nel contempo costituirà anche l'assolvimento agli obblighi di legge nei confronti dei futuri datori di lavoro.